Un colpo di scena inaspettato ha animato la puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 23 ottobre. Alfonso D'Apice, ex protagonista di Tentation Island, ha rivisto per la prima volta Federica Petagna, la sua ex fidanzata, che lo aveva lasciato al termine del reality show. Entrato in studio ignaro di ciò che lo attendeva, Alfonso ha dovuto affrontare la rivelazione che Federica stava frequentando Stefano Tediosi, il single con cui aveva stretto un legame durante il programma. Alfonso, visibilmente emozionato, ha raccontato a Maria De Filippi di come, al termine del loro percorso a Tentation Island, Federica gli avesse chiesto una pausa. Negando però di avere altre persone in mente mi ha detto che voleva stare da sola, ma evidentemente non era così, ha confessato Alfonso, pochi istanti prima di rivedere la sua ex. La nostalgia ha preso il sopravvento e Alfonso non ha trattenuto le lacrime, sono uno stupido, ma rivederla mi ha toccato. Federica, dal canto suo, ha voluto chiarire la sua posizione, affermando che la fine della loro relazione non è stata causata da Stefano. Non ti ho lasciato per lui, ha dichiarato la giovane, spiegando che il distacco emotivo era iniziato già durante la loro permanenza nel villaggio, ho capito che potevo stare senza di lui, e questa consapevolezza mi ha fatto prendere la decisione. Un confronto che ha lasciato il pubblico senza fiato, evidenziando come, spesso, le dinamiche amorose vadano oltre le apparenze.